Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi È stata presa a pugni in strada, al capolinea del bus, dopo una lite scoppiata per motivi di gelosia È quanto successo la serata di Ferragosto, nella zona della circonvallazione Cornelia-Roma A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato la scena e chiamato il numero unico per le emergenze Punto sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato Secondo quanto emerso, la donna avrebbe accusato il marito di un presunto tradimento Lui, un boliviano di 42 anni, avrebbe reagito colpendola con due pugni in volto e facendola cadere sull'asfalto Soccorsa è portata all'ospedale Santo Spirito, la donna ne avrà per 25 giorni Il 42enne, invece, è stato arrestato per lesioni personali aggravate Ieri, nel processo per Direttissima, il provvedimento è stato convalidato L'uomo è stato comunque rimesso in libertà in attesa di giudizio La sua posizione è al baglio degli inquirenti? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video